Non ho mai avuto una ragazza, ma sono un bel ragazzo! Come sempre ragazzi, io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi volesse un approfondimento su un qualsiasi argomento trattato sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da gestire o risolvere. Link in descrizione per tutti i dettagli. Questo video è un assist fantastico che mi date. È la dimostrazione che la sola bellezza non basta. L'ho già spiegato in diversi video che le persone guardano sì la bellezza, le ragazze, i ragazzi soprattutto, però non è tutto. Uno che mi dice che è un bel ragazzo, di solito lo è, perché spesso noi tendiamo a svalutarci, a pensare che siamo peggio di quello che siamo in effetti. Però se tu mi dici che sei un bel ragazzo o hai un'ottima autostima o lo sei a tutti gli effetti, quindi te l'hanno detto spesso, però non hai mai avuto una ragazza. Questo la dice lunga sul fatto che l'aspetto fisico e basta non è tutto, non è fondamentale, non è una condizio sine qua non per avere una ragazza, parlando in maniera semplice. Se sono solo bello, posso avere ragazze? Sì, puoi. È matematico che io abbia ragazze? No, perché questo messaggio me lo dimostra. Sono bello, ma non ho mai avuto una ragazza. Perché? Perché probabilmente ti mancano altre caratteristiche che una ragazza cerca. Magari all'inizio una ragazza è stata tratta da te per l'aspetto fisico, ma non sei riuscito a trattenerla a te perché lei cercava qualcos'altro. Ha visto che dopo la bellezza non c'era nient'altro. E quindi che bisogna fare? Devi lavorare su tutte le altre caratteristiche che una ragazza cerca in un uomo che non fanno parte del mero aspetto estetico. E quali sono questi atteggiamenti? Diversi, passioni, capacità di parlare, capacità di sapersi rapportare con le ragazze. Tu magari sei un ragazzo molto bello, ma non sei una persona particolarmente spigliata, intraprendente, anzi magari sei timido. Oppure ti mancano semplicemente quelle due o tre chicche, quei due o tre consigli per migliorare il tuo approccio con le ragazze. Ci sono più di 1500 video sul mio canale a tema sentimentale. Il mio consiglio è quello di recuperarli e vedere quali possono fare per te perché io sono sicuro che tu sai di essere carente in un qualche cosa che io non posso sapere perché non mi hai iscritto. Quindi siccome ho trattato centinaia di argomenti, vai a recuperare e cerca le cose in cui sai di essere un po' scarso e vai a migliorarti perché se già parti da una base buona al tuo aspetto fisico basta veramente poco per saperci fare. Migliorare qualche comportamento, qualche atteggiamento, magari sei un po' bisognoso, magari sbagli a scrivere, magari eccedi nell'amicizia e finisci in friendzone. Insomma, cerca di sistemare queste cosette e poi la base, se è a posto, ti farà fare strage, te lo garantisco. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che sono disponibili per consulenze private a pagamento per chi volesse approfondimenti su questi temi o per chi avessi una situazione particolarmente complessa da risolvere. Tutte le info in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.